La soluzione per mancanza di conoscenza assomiglia molto alla... Ma chi ce l'ha? Marie che è 15 giorni che è direttore sportivo. Incapacità di intendere di volere perché basta, ripeto, alzare il telefono, ci sono 40 agenti FIFA che conoscono vita, morte e morte. No dai, no dai, vabbè, 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 40 agenti FIFA. Ascolta, ascolta Enrico.